sento ancora dire queste cose in giro, o state cominciando a ricredervi forse. Per quanto riguarda i figli, non essendoci una scuola o un monastero dove venire istruiti, i bambini vichinghi venivano istruiti dai genitori o dagli anziani della famiglia attraverso la saga, ovvero racconti epici sugli eroi vichinghi e la loro religione. I genitori istruivano i figli sui lavori, le bambine venivano istruiti dalle madri nelle faccende domestiche, il padre o la madre istruiva spesso ambito i figli nell'agricoltura o l'allevamento, e il padre istruiva il figlio maschio nella pesca, nella caccia o la guerra. E spesso i mestieri coincidevano, un contadino pescatore spesso partiva per la guerra quando era stagione di razzie. Siamo giunti alla fine di questo episodio di Medioevo Fa Storia e ci tenevamo molto a ringraziarvi, perché dall'episodio zero gli ascolti sono letteralmente raddoppiati e anche di più. Ciò ci fa molto piacere, poiché ci rendiamo conto che la storia, seppure un settore di nicchia, può piacere ancora alle persone e soprattutto a noi giovani, magari reinventando la modalità di divulgazione. Un altro paio di cose. Come avrete notato abbiamo deciso di ridisegnare il logo, che ci siamo fatti fare da un designer, e ci piace molto di più. Se le vostre orecchie soffrono quanto le nostre ascoltando il podcast, non preoccupatevi, probabilmente per il prossimo episodio disporremo di un nuovo microfono, o almeno io. Infine stiamo lavorando per aprire una pagina Patreon, come volete, per fare in modo che chi ha un progetto possa supportarci direttamente. Sentitevi liberi di seguirci sulle nostre pagine Instagram e Facebook, dove vi terremo sempre aggiornati sulle news relative al nostro progetto. Oltre a questo, Siva, lasciate un commento dove ci suggerite il prossimo spunto per il nostro podcast. Vi ringraziamo per averci seguiti. Da Giovanni e Antonio, o se qui. Grazie a tutti. Grazie a tutti.